Come buttare la polvere sotto il tappeto? I rifiuti in plastica finiscono in Malesia attraverso canali illegali. Il governo malesiano ha messo sotto sequestro circa 3.000 tonnellate di materiale plastico non riciclabile, rifiuti speciali e domestici penetrati illegalmente con false dichiarazioni. Bangladesh, Arabia Saudita, Singapore, ma anche Stati Uniti, Regno Unito, Francia, tra i paesi che hanno fatto export illecito di rifiuti citati dal ministro dell'ambiente della Malesia. Se ci sono persone che vorrebbero vedere questo paese come la discarica del mondo stanno sognando, ha dichiarato il ministro Bing. Quindi noi rimandiamo indietro il carico. Rispedite al mittente 150 container, ma è solo la punta dell'iceberg. Dal 2017 la Malesia importa circa il 20% dei residui plastici dell'Unione Europea dopo lo stop cinese alle importazioni. I dati di Eurostat diffusi da un dossier di Greenpeace indicano che l'Italia bussa a Kuala Lumpur con un quantitativo di rifiuti dal peso pari a 445 Boeing 747 a pieno carico. Nel vortice dello smaltimento illecito e dell'eco-business, con la materia riciclata che finisce in discarica, la Malesia dice basta. Dove stoccare i rifiuti non recuperati all'economia circolare, alla luce del sole o nei modi che configurano reato ambientale non è chiaro, in particolare dopo l'inversione di tendenza della Cina che entro il 2025 prevede di controllare efficacemente l'inquinamento da plastica bloccando l'import e la produzione dei rifiuti.